caro professore lei dovrà insegnare al mio ragazzo che non tutti gli uomini sono giusti non tutti dicono la verità ma la prego di dirgli pure che per ogni malvagio c'è un eroe per ogni egoista c'è un leader generoso gli insegni per favore che per ogni nemico ci sarà anche un amico e che vale molto più una moneta guadagnata con il lavoro che una moneta trovata gli insegni a perdere ma anche a saper godere della vittoria lo allontani dall'invidia e gli faccia riconoscere l'allegria profonda di un sorriso silenzioso non lasci meravigliare del contenuto dei suoi libri ma anche distrarsi con gli uccelli nel cielo i fiori nei campi le colline e le valli nel gioco con gli amici gli spieghi che è meglio una sconfitta onorevole di una vergognosa vittoria gli insegna a credere in se stesso anche se si ritrova solo contro tutti gli insegna ad essere gentile con i gentili e duro con i duri e a non accettare le cose solamente perché le hanno accettate anche gli altri gli insegna ad ascoltare tutti ma nel momento della verità a decidere da solo gli insegni a ridere quando è triste e gli spieghi che qualche volta anche i veri uomini piangono gli insegni ad ignorare le folle che chiedono sangue e a combattere anche da solo contro tutti quando è convinto di aver ragione lo tratti bene ma non da bambino perché solo con il fuoco si tempera l'acciaio chi faccia conoscere il coraggio di essere impaziente e la pazienza di essere coraggioso gli trasmetta una fede sublime nel creatore ed anche in se stesso perché solo così può avere fiducia negli uomini so che chiedo molto ma vita cosa può fare caro maestro Abram Lincoln Ergra